Jerry Zucker, uno dei tre registi dell'aereo più pazzo del mondo, abbandona il demenziale per entrare nei ranghi del cinema per tutti i gusti. Il film studiato fin troppo per le platee, in maniera schematica, racchiude il versante romantico e comico, quello thriller e di fantascienza. Un uomo viene ucciso e attraverso una sgangherata medium cerca di entrare in contatto con la fidanzata. Questa pellicola fa parte del periodo di moralismo e pseudo-religione, durante la presidenza di Bush, che ha riguardato molti film creati come fiabe, ma lontani anni luce dalla bravura di un Frank Capra. Enorme successo di pubblico.